Un applauso liberatorio di accompagnamento a questi ultimi istanti che precedono l'elezione ringrazio ancora tutti gli artisti intervenuti, ringrazio personalmente Alberto Cerqua per avermi voluto ancora qui su questo palco rendendomi onorata e felice Grazie a voi per l'ottima conduzione, sono fiero anche quest'anno di tutte e due e vi ringrazio, una conduzione eccezionale, impeccabile Grazie, grazie Ci proviamo Grazie a tutti i nostri sponsor, a tutti i gruppi tecnici, davvero tutte le persone che hanno contribuito al miglioramento di Miss Europe Continental 2018 Migliorare, migliorare, sempre migliorare, questo è il suo motto E allora ci siamo La Miss Europe Continental 2018 Signore e signori, ladies and gentlemen Monsieur Dam È la numero Numero 15 da Bosnia Araceli del Cont Ecco la fascia, Alberto Cerqua ovviamente da patron fascia la nostra nuova Miss Europe Continental dalla Bosnia Araceli, la numero 15 Alessia, l'amministratore delegato, la incorona con bacio accademico e poi i fiori, un bello omaggio a Floreale Questo è ancora l'applauso per Miss Europe Continental 2018 Dalla Bosnia, dalla Bosnia Araceli, numero 15 Ovviamente adesso restiamo a disposizione per le foto In particolar modo la neo eletta Miss Europe Continental, la numero 15 Araceli Buon viaggio, che sia un anno fantastico, pieno di opportunità dove tu possa raccogliere il massimo da tutti gli incontri che farai e dai lavori che avrai l'opportunità di portare a termine E allora ringraziamo Alberto Cerqua, ringraziamo Alessia, Maida, l'avvocato Fabio Segreti, tutti i nostri giurati straordinari e poi ancora Grazie, grazie Nina, grazie a tutti Maria Monzè, poi Gianluca Magni, grande lavoro avete fatto dal parterre qui della nostra platea Anita Del Rey, Massimiliano Varrese, Danilo Brugia, Daniela Martani, grazie, grazie E allora si ricomincia subito per un nuovo anno e noi l'appuntamento ve lo diamo per l'anno prossimo Grazie Veronica Maia Marco Senise, Miss Europe Continental, ciao Ciao, all'anno prossimo, ciao